Ciao, io mi sono lasciato e oggi siamo su Mentre è un gioco in cui o vinci o perdi Ah beh abbiamo perso Ho un piano però per vincere Facciamo questo sempre Dovrebbe andare bene adesso Dovrebbe andare molto bene Credo e poi non lo so Vedo un robot e quell'altro che non so come si chiama Ho fatto una cavolata Ho fatto una cavolata Grazie 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 Ritornati con un nuovo evento stavolta Prima ero L'uovivenza ora è calcio invece Vabbè No la connessione No Sono già morto Poi è bello che il gioco è C'è una palla da calcio Ma immagini una palla da basket No 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 Non vale così Forse ho un piano però Ho un piano Ma ho un piano Un robot Qui all'angolo eccolo C'è un robot E voleva sparare quello Ho dato la palla a qualcuno Non so chi però Lo do da qualcuno Ok Non mi si ricarica però la barra Quella della super mosso Perché non mi si ricarica Ho la palla Ho la palla Ho la palla Non ho la palla No No Questa è andata male E' andata male questa Facciamo anche un ultimo evento almeno Io posso usare ma ne Nel 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 Le Le uso poco Lo usiamo dai Che Ne Sta cambiando anche lei Vediamo Quella che le ha scelto Non so chi sia Però va bene L'importante è che sia forte Poi chi se ne frega Ma se uso queste qua Le gemme invece non mi fa male Cavolo, cavolo no No Ho fatto una strage Ho fatto una strage ma vogliono uccidere me No Non mi avranno Non mi avranno Maledetti Dai ci manca una gemma Se non ho sbaglio Mi nascondo qua eh Ah no Mi nascondo Eh Un altro Ci hanno rubato una gemma Però qua c'è un'altra No Ok Siamo salvi Siamo salvi Proteggo io Ce l'abbiamo fatta? No Non ancora C'è Però alla fine Abbiamo vinto E ok ragazzi Spero che il video Sia Mi sia Miacciuto a noi Vi vediamo nel prossimo video Ciao 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 Ciao